Questa è la parte più straordinaria. È una luce calda e accogliente. È un essere maschile, ma ha anche accenti di amore materno, di amore fraterno. Pulsa tutto intorno. Mi ha accettato completamente e mi ha perdonato per tutto ciò che ho fatto. Ma posso io perdonarmi per i miei atti egoisti? Lei ha preso su di sé tutto il mio dolore e la mia sofferenza con una comprensione totale di ciò che mi aveva portato a quel punto. Era come se fossimo unite da un legame strettissimo, come se sentisse tutto ciò che sentivo io. C'era questo amore incondizionato, simile a quello che la maggior parte dei genitori prova per i propri figli, non importa quanto cattivi siano stati. Ero amata e capita in modo totale, perché lei comprendeva le ragioni sottostanti alle mie azioni. C'era questa comunione tra noi, questo rapporto empatico e un amore meraviglioso.